In queste ore si moltiplicano le iniziative di protesta nei confronti del DPCM dell'ultimo che ha costretto a diverse restrizioni, in modo particolare tante categorie dai ristoratori, ma non solo alla chiusura di piscine, di palestre e di tante altre situazioni simili. Questa mattina sotto l'attore della CNA, artigiani, imprenditori e commercianti hanno dato vita a un flash mob pacifico e distanziato in protesta al nuovo decreto ministeriale che impone la chiusura di queste attività. Spiduciati, increduli e anche un po' disorientati, i commercianti e imprenditori aderenti a CNA non sanno più che pesci prendere. Per citare una frase pronunciata da Marco Orienti, titolare dell'Osteria dell'Orsa, il quale, assieme ad altri artigiani, ha partecipato ad un flash mob distanziato sotto l'attore della CNA in Viale Aldomoro. Non spegnete le imprese, non spegnete l'economia, è il messaggio rivolto al governo dopo il recente DPCM e alle amministrazioni locali, affinché non lascino solo le imprese, destinandole a un inevitabile rischio di chiusura. A rischio c'è tutto il mondo, che non dobbiamo dimenticare, della cultura legata al cinema, teatri e la musica e credo che almeno qualche migliaio di imprese, circa 2-3 mila, dai 2-3 mila, tra imprenditori, professionisti e attività connesse, vedranno chiudere i battenti entro il 3-2 dicembre. Il dato che si riferisce solo all'area metropolitana di Bologna coinvolge per ogni azienda dalle 6 alle 8 persone, trasversali i settori coinvolti, ristoratori, trasporti, imprese del benessere, ma anche gli allestitori di fiere e di eventi, le imprese della cultura e degli spettacoli. Noi facciamo allestimenti sia in Italia che in Europa, quindi quest'anno era anche un anno importante, perché è l'anno delle biennali e quindi c'erano ancora più eventi. Quindi questo continuo annullare il lavoro non ci dà l'opportunità di avere un futuro. Il nostro settore è composto da circa 450 aziende, dove operano direttamente 6 mila addetti e diamo lavoro a 120 mila persone. Occorrono sostegni concreti e misure che agevolino le aziende e spiegano da CNA Bologna. Noi veramente, non dico che siamo disperati perché non siamo delle persone che si perdono d'animo, però incomincia ad essere seccante tutto ciò, veramente seccante. Vogliamo fare il nostro mestiere.